Una partita da vincere senza se e senza ma per la Fiorini Pesaro Rugby oggi al Totti Patrignani contro la Vestano, una Fiorini Pesaro Rugby che è reduce da sole sconfitte in questo girone di ritorno e che quindi è costretta ed è chiamata a rialzare la testa. Un saluto a tutti i telespettatori di Rossini TV, da Matteo Diotalevi, con me al commento tecnico Giacomo Tontini. Che partita ti aspetti Giacomo? Sicuramente partita molto tosta, Vestano sta attraversando un buon periodo di forma, viene da tre vittorie di fila, Pesaro sei sconfitte di fila e vanno ricordate. Secondo me sarà per una partita alla pari, non ci saranno supremazioni da una parte né dall'altra. Vedremo una partita combattuta, Pesaro oggi gioca in casa quindi deve dimostrare veramente tanto. Adesso un minuto di silenzio, ricordo di Andrea Cipolloni, ex giocatore della Pesaro Rugby. Un minuto di silenzio doveroso, il ricordo di Andrea Cipolloni. Giocatore che in passato vestì la maglia giallorossa e ora testa e cuore in questa partita. Pesaro Rugby chiamata ad affrontare, anzi senza dubbio la squadra, rivelazione di questo campionato, neopromossa, occupa stabilmente il quarto posto. All'andata Vestano si impose con una vittoria rotonda contro la Pesaro Rugby, una Pesaro Rugby che ebbe non pochi problemi a contrastare il gioco fisico di mischia degli abruzzesi. Arbitro di giornata il signor imbriaco di Bologna, coadiuvato da Gargamelli e Caprini, guardaline entrambi della provincia di Pesaro. Subito palla in mano alla Vestano che prova a organizzarsi, Pesaro che si sistema in difesa e soprattutto che va subito a conquistare un pallone fondamentale, non messo a disposizione dagli abruzzesi. Davvero grandissima giocata, non ho visto effettivamente chi è andato a rubare il pallone, ma ottima giocata e ottimo inizio per Pesaro. Era Stefanini, bravo subito Massimo a rubare questo pallone, ci voleva questa aggressività, ci voleva questo inizio perché subito metti in difficoltà Vestano e potresti andare subito a segnare tre punti che dopo un minuto neanche di gioco sono sempre ottimi. Esatto, Giobert indica subito i pali all'arbitro, la volontà è quella di provare subito a muovere il punteggio, d'altronde la posizione è decisamente favorevole. Massima concentrazione per Giobert che centra i pali, quindi al primo minuto di gioco la Fiorini-Pesaro Rugby si porta subito in vantaggio per 3-0. Una partita in cui sarà come sempre fondamentale da entrambe le parti limitare al massimo i falli. Sì, infatti l'abbiamo appena visto, fare subito un fallo, prendere la palla vuol dire tre punti e quindi è importante anche giocare su queste cose e soprattutto da parte di ogni squadra limitare i falli perché poi dopo ne ripotreste di pagare. Adesso buona e sicura la presa di Venturini che però scivola un po' sul terreno di gioco, adesso è Giobert a liberare il pallone che però rimane in campo, quindi Pesaro si deve risistemare. Palla Natalia, ex di giornata, che quest'anno è tornato a giocare con la sua a Vestano dopo appunto il ritorno in Serie A. E adesso Tush in favore di Pesaro, no, in favore di Avestano. Evidentemente la Resciarte l'ha toccata prima che uscisse. Prima Tush di giornata, vediamo Pesaro come si organizzerà per contrastare il lancio degli abruzzesi, altrettanto vero che Pesaro ha subito e non poco gli infortuni di questi mesi. Domenica scorsa si è fatto male nuovamente Filoni che era appena rientrato e quindi altri cambi in seconda linea per i giallorossi. Adesso buona la Tush per a Vestano che si organizza in mischia, palla in mano a rettagliata numero 8, continuano a spingere. Adesso escono, Pesaro attenta comunque all'uscita del pallone, prova a risistemarsi, sono dentro i 22 giallorossi. Pesaro prova la contro-rack che sembra riuscire, infatti Pesaro conquista lo vale, è davvero ottima la prova difensiva sin qui dei giallorossi. E alla fine l'arbitro assegna anche un calcio di punizione ai giallorossi. È questo l'atteggiamento che si voleva vedere da parte dei pesaresi. È un atteggiamento più che positivo, un atteggiamento più che buono. Dopo tre minuti iniziare così, 3-0, metti subito in difficoltà a Vestano. Difesa, una difesa dalla Molle, contro-rack ottima, prendi pure il fallo e guadagni molto terreno. E questo è un bel segnale subito a Vestano che deve cercare di invertire la rotta perché sennò oggi potrebbe essere una partita difficile per loro con questo Pesaro qui. Ottimo anche il calcio di punizione di Jobert. Si riprende con una touche con Stefanini al lancio, quindi una touche giallorossa. Vediamo se andrà per il primo o secondo blocco. Buona la touche, invece no. L'arbitro la vede storta come d'altronde effettivamente era. Molto fiscale l'arbitro ma giusto così. Si riprende quindi con una mischia, prima mischia della partita. Una mischia che all'andata mise e non poco in difficoltà i primi otto giocatori di Pesaro. Vediamo oggi come andrà. Una mischia che ha in prima linea dal posto Stefanini e Santino, in seconda Venturini e Caroli e in terza Villarosa, Tontini e Antonelli. Davvero buona però la spinta dei pesaresi, buona la pressione, buono il placaggio su Natalia. Adesso è Pesaro che deve continuare a portare pressione, mazzinare ancora metri, non far risalire troppo facilmente l'Avestano. E così sta facendo Pesaro e l'Avestano commette anche un in avanti e quindi si riprenderà con una mischia in favore dei pesaresi. Una mischia fantastica in difesa che loro vanno subito indietro, salita difensiva molto buona. Non è questo l'atteggiamento, lo stiamo ripetendo da inizio partita e Pesaro momentaneamente sembra essere messo molto bene in campo, mentre l'Avestano sembra essere un po' in difficoltà ancora, non sembrano essere entrati ancora in partita come si si aspettava. Pesaro sa che deve fare la partita e che deve giocarsela al massimo per mettere punti in classifica per giocare in tranquillità il finale di campionato. Ancora le ultime di classifica sono a diversi punti di distanza, ma l'attenzione per i pesaresi deve essere massima. Adesso Pesaro conquista un altro calcio di punizione da zona centrale, davvero ottima la mischia pesarese nonostante Avestano si lamenti e non poco con l'arbitro. Vediamo adesso un giocatore appunto il capitano Costantini a colloquio con l'arbitro, sta chiedendo spiegazioni, forse c'è qualcosa che devono comprendere del metro arbitrale. Fatto sta che Pesaro conquista un'altra ghiotta occasione per andare a punti e infatti Jobert chiede di calciare il piastato fra i pali. Davvero ottima, sorprendenti queste prime due mischie per i pesaresi che sicuramente concedono qualche chilo agli avversari abruzzesi ma che al momento l'hanno messi in difficoltà due volte su due. Il silenzio del Totti, Patrignani porta bene e Jobert al sesto minuto va a realizzare il secondo piastato di giornata portando la Fiorini Pesaro Rugby sul 6-0 ai danni dell'Avestano. Davvero ottimo avvio di partita. Due mischie, due sicuresti in questo caso, siete stati veramente bravi a recuperare sempre il pallone. È un buon attesamento, lo stiamo ripetendo. 6-0 dopo 6 minuti è subito un buon risultato e ti dà più sicurezza per la partita. Presa sicura di Antonelli, Bocca Rossa che consegna Jobert. Bel calcio di allontanamento, pallone che rimane in campo. Pesaro costretta a risalire con la sua linea difensiva. Si deve sistemare al meglio per non concedere troppi metri all'Avestano. Adesso è buona la difesa perché il centro dell'Avestano di Matteo prova un calcetto e viene stoppato da Pesaro e finisce in fallo laterale. Quindi sarà tush per l'Avestano. Vediamo la particolarità della tush abruzzese dove il lanciatore non è il talloner ma il numero 8 rettagliata. Giocatore di grande esperienza, rientrato anche lui dopo un infortunio. E questa volta è Pesaro a commettere un fallo nella tush andando a infastidire in area il ricevitore del pallone. Quindi si riprenderà con un calcio di punizione per l'Avestano. Ci poteva evitare ma giustamente Venturini se non sbaglio voleva andare a prendere la palla. Peccato perché l'Avestano si avvicina molto all'area di mente. Adesso può essere un'occasione ghiotta per l'Avestano per rientrare in partita. Sì, situazione molto delicata. Ricordiamo che all'andata vado a memoria ma mi pare che tre delle quattro metri le fecero proprio da moll sui cinque metri. È uno dei punti di forza dell'Avestano e Pesaro deve stare attento a concederne il meno possibile. Intanto buona presenza di pubblico oggi al Toti Patrignani. D'altronde è arrivata finalmente la primavera e il sole aiuta e non poco a godersi partite di questo tipo. Tutto da vedere se Pesaro proverà a contrastare Latouche in aria. La segue a terra. Buona la difesa. Hanno provato a giocare una furba subito con la palla riconsegnata o meglio giocata sul primo blocco poteva riconsegnarla al lanciatore. In realtà l'arbitro ha visto un fallo e quindi si riprende con un calcio di punizione se non sbaglio di seconda della della Fiorini-Pesaro-Requi. Pallone che esce infatti si riprende con una tuscia in favore dell'Avestano. Buon per Pesaro questo errore degli abruzzesi. Buon errore perché comunque loro erano molto vicini non ho capito quale fosse la giocata reale perché vedevo che stavano un po' discutendo tra di loro che magari volevano andare dietro poi hanno fatto una furba e hanno perso la palla quindi meglio per Pesaro questo dimostra la disorganizzazione in questo momento di Avestano che non sembra appunto essere ancora entrato bene in partita. Ricordiamo che in questo campionato in questo girone influiscono e non poco le trasferte essendo tutte abbastanza lunghe in realtà questa Avestano-Pesaro è una delle più brevi per gli abruzzesi è altrettanto vero che è una trasferta fatta in giornate che quindi può sempre influire poi sulla prestazione in campo intanto altro avanti da parte di Avestano e quindi terza mischia di giornata introduzione in questo caso Pesarese Nicola Boccarossa a introdurre l'ovale di ritorno dopo due partite viste in tribuna visto che aveva subito un infortunio e adesso si gioca fuori con per i tre quarti pesaresi è Pesaro che prova a stendersi cercano di mantenere l'ovale buona l'azione pesarese con i tre quarti adesso consegnano ad Antonelli che fa metri viene sospinto dal capitano Villarosa buona la giocata dei pesaresi adesso è Santino palla in mano che prova a macinare metri due uomini su di lui si gioca l'inrac la palla riesce a uscire per Giobert e Paletta a sfidare i diretti avversari macina metri anche lui palla a disposizione dei tre quarti pesaresi che continuano ad avanzare buona l'azione pesarese tante le fasi di gioco palla che fatica ad uscire tutto buono Pesaro comunque mantiene l'ovale forse bisogna dare un po' più ritmo lì vicino alle rac adesso Santino ha portato indietro Pesaro che comunque riesce a mantenere il pallone ma alla fine è l'Avestano a conquistarlo serve probabilmente in queste giocate maggiore ritmo da parte dei pesaresi e intanto vediamo loro che giocano veloce sì era partita bene l'azione perché erano ammazzati tanto poi dopo di una certa non lo so cosa sia successo sono un po' hanno un po' rallentato il ritmo bravo Avezzano perché è riuscito a respingere l'attacco di Pesaro anche se forse c'erano due falli che l'arbitro non ha visto qua mi sembrava addirittura che ci fosse un avanti sì adesso è l'Avestano che prova a stendersi sull'out di sinistra la palla che rimane in campo tutto buono l'arbitro forse sta mancando qualche chiamata e che poi rende più difficile effettivamente il gioco intanto vediamo che Caroli rimane a terra e adesso è ottimo il placaggio di paletta su Natalia l'arbitro però continua a far giocare e adesso se è un calcio di liberazione da parte dell'Avestano sicuro De Angelis oggi a estremo nella presa chiamato a risalire per mettere in gioco i compagni buona la salita pesarese buono subito il placaggio da parte dei giallorossi palla nelle mani dell'Avestano ancora c'è un vantaggio sembra è Pesaro che deve fare buona guardia lì vicino alla RAC dove continuano a giocare gli abrustesi adesso calcio di Natalia recupera Venturini ed è Jobert probabilmente a calciare lungo vantaggio acquisito e quindi è tutto da giocare ottimo il placaggio di Jobert e adesso gioco decisamente rotto Pesaro deve riuscire a recuperare perché l'Avestano si distende sull'out di destra ottimo il placaggio di Bocca Rossa ed è Pesaro a riconquistare Antonelli palla in mano serve subito il sostegno dei compagni vediamo se Pesaro riesce a mantenere l'ovale così è e alla fine arriva un calcio di punizione Lala Capone ama chiacchierare e l'arbitro punisce subito il suo comportamento l'arbitro non ne vuole sapere di troppe chiacchiere da parte dei giocatori in campo e l'arbitro richiama fra l'altro per la seconda volta il numero 11 che aveva aveva il numero 11 protestato per la seconda volta l'arbitro non ha concesso ulteriori lamentele ma soprattutto è da sottolineare la prova difensiva con un placcaggio indimenticabile a questo punto di Bocca Rossa che probabilmente ha sventato una meta quasi certa è stato bravissimo tutta l'azione è stata molto confusa da una parte e dall'altra non si capiva molto bene cosa potesse succedere poi Avezzano è riuscito a prendere il largo bravissimo a Bocca Rossa perché è riuscito a fermare una possibile meta dopo Avezzano ha perso la palla bravi comunque peso a tenere la palla fallo giocatore l'ala di Avezzano che viene punita e questo può costare caro anche perché l'arbitro si è voluto far sentire ha voluto far capire come vuole questa partita davvero una una serie di azioni di grande ritmo una partita che è una situazione che si era rotta è stato bravo Bocca Rossa a prenderlo per la maglia e riuscire a far perdere il tempo al diretto avversario che poi non è riuscito a servire nella miglior maniera il suo compagno che stava arrivando al suo fianco buon per Pesaro Pesaro che continua a guidare nel punteggio per 6 a 0 ancora non è non è sopra break quindi deve continuare a macchinare gioco ha tutte le possibilità per portare a casa questa partita ancora manca tantissimo però ecco deve continuare con lo stesso atteggiamento messo in mostra nei primi minuti di gioco e adesso Giobert indovina un'altra ottima tush si buon calcio perché guadagna tanto terreno arriviamo nel numero 22 adesso sarebbe importante finalizzare sarebbe importante fare una meta perché Avezzano appunto ancora sta facendo difficoltà entrare in partita e si li punisce in questo momento poi dopo diventa ancora più difficile per loro e Pesaro deve sfruttare questo momento e soprattutto Pesaro comunque sta facendo una buonissima partita e quindi sarebbe il momento giusto adesso seconda tush con Stefanini al lancio questa volta è ottimo il lancio prova a impostare la molle Pesaro si muove orizzontalmente non riesce a mazzinare metri ma purtroppo va a commettere un velo e quindi nulla da fare sarà l'Avestano a ripartire con un calzo peccato peccato perché appunto avevo appena detto che bisognava fare mentre adesso vengo smentito è un punto gran peccato si poteva fare meglio in questa azione qui comunque ci saranno altre occasioni Pesaro comunque sta facendo una buona partita non bisogna sicuramente abbassare la testa ma continuare con questo passo perché è importante è stato comunque molto bravo l'Avestano nel contrastare la molle pesarese nulla da dire rispetto a questo e quindi e quindi Pesaro dovrà vedere di impostare meglio la molle se avrà una nuova possibilità di farlo adesso buono il lancio dell'Avestano che esce fuori non un gran pallone aperto adesso l'Avestano prova a stendersi con i suoi tre quarti passaggi non proprio precisissimi Pesaro che prova a mettere le mani sulla palla non riesce adesso è l'Avestano che prova a impostare il suo gioco con i tre quarti e alla fine però entrata laterale da parte di Pesaro l'arbitro la punisce con un calcio di punizione questi sono falli da evitare tutta la vita si ci sta è giusta l'aggressività perché comunque Pesaro sta mostrando tanta aggressività però appunto nel rispetto delle regole perché poi si viene puniti e adesso avversano la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla meta adesso sono i 22 ancora ci vuole un po' però comunque sono segnali che ci sono cose da evitare adesso vediamo l'Avestano come andrà a strutturare l'azione da Tush se proverà a impostare una molle o proverà ad aprire per i suoi tre quarti Pesaro che sin qui ha sfidato a viso aperto la mischia dell'Avestano vediamo se l'Avestano si affiderà ai suoi primi otto uomini così pare essere d'altronde una bellissima Tush Avestano che imposta la molle Pesaro che la blocca almeno una volta è battaglia lì contro la molle dell'Avestano Avestano che cerca di avanzare e adesso Pesaro fa un po' fatica a contenere la molle a brustese e invece alla fine addirittura riesce ad arrivare all'ovale a rubarlo e adesso palla per Jobert che calcia in Tush e fa respirare la difesa pesarese buona la difesa non so come quella palla sia finita Stefanini però è arrivata Stefanini buona difesa forse in questo momento qui Avestano sta iniziando ad ingranare è stata comunque una buona molle perché erano molto avanzanti Pesaro non deve perdere le sue certezze non deve perdere i suoi appunto queste sue certezze deve continuare sui primi minuti e adesso vedremo cosa succederà Avestano comunque sta iniziando un po' ad ingranare la marcia altra Tush sempre rettagliata al lancio vediamo se Pesaro proverà a contrastare in aria ci prova ma effettivamente è veramente ben organizzata Avestano in Tush e adesso però buono Venturini che prova l'intercetto non gli riesce commette un in avanti però davvero buono l'intento di Gabriele del più giovane dei fratelli Venturini era uscita molto bene Avestano da questa Tush con una giocata su rettagliata che dopo il lancio era andato a inserirsi per aprire per i tre quarti ma poi diciamo la trasmissione fra i tre quarti a Bruzzesi Sinqui ha giovato al Pesaro Rugby non essendo stata precisissima adesso una mischia a introduzione a Bruzzese il numero nove ficca denti con la palla fra le mani e vediamo in questa terza mischia di partita se Pesaro riuscirà a dire ancora la sua e a mettere in difficoltà gli abruzzesi non è così adesso è Pesaro che deve riuscire a fermare il gioco dei gialloneri qualche difficoltà per i giallorossi in questo caso lì è battaglia di trincea praticamente sui cinque metri della linea di metà della Fiorini Pesaro Rugby Pesaro che si organizza giocano vicino la RAC e il tallonatore Mammone ad andare dentro adesso provano ancora ad aprire in questo caso per i tre quarti Natalia serve l'ala e adesso palla di nuovo all'ala numero 11 Stefanini che manca la presa per fortuna Pesaro riesce a recuperarla ma si riprende non so se con si si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Vestano vediamo se vanno in tusce sui cinque metri o decideranno di andare per i pali sembra che andranno in tusce Pesaro ha rischiato e non poco in quest'azione e che Pesaro deve riuscire a venire fuori dalla sua metà campo adesso in realtà è nei suoi cinque metri quindi compito ancora più arduo bisogna vedere adesso come contrastare per l'ennesima volta questa tusce vediamo è facile immaginare che proveranno a impostare una molle Pesaro deve riuscire in questo caso a fermarla nell'immediato compito ha fatto semplice a cinque metri dalla linea di meta lancio è preciso e per fortuna di Pesaro il lancio però era preciso nelle mani ma storto e quindi si riprenderà con una tusce o una molle o una mischia vediamo che cosa desiderà di fare Pesaro comunque in favore di giallorossi Pesaro costretta da almeno dieci minuti nella sua metà campo un Avezzano che prova a spingere sull'acceleratore per mettere in difficoltà i giallorossi si Avezzano è da un po' che insiste prova anche in questo caso invece di puntare i tre punti ha preferito andare andare in in tusce solo che appunto non riescono a finalizzare questa è stata una brutta disattenzione da parte di Avezzano perché non puoi oggettivamente fare un lancio storto e adesso qua pure fallo a favore di Pesaro quindi Pesaro riesce ad uscirne molto bene da questa situazione mentre Avezzano invece continua questo momento un po' difficile che sembrava che potessero entrare bene in partita invece vengono subito smentiti Davvero buona la mischia per Pesaro sin qui credo a memoria che l'abbia vinte tutte no una l'è riuscita a tirarla fuori prima Avezzano ma comunque Pesaro sta sempre mettendo in difficoltà l'Avezzano in mischia chiusa adesso un'altra tusce in favore dei giallorossi sarà fondamentale vincerla per ripartire e tornare nella metà campo abruzzese buono il lancio ma per l'ennesima volta in questa partita storto quindi sarà tusce per i gialloneri vediamo l'Avezzano che si organizza decidono la chiamata da giocare Pesaro che prova a contrastare il lancio all'arbitro veramente fiscalissimo che segnala un vantaggio per l'Avezzano è buona la giocata dell'Avezzano è buono anche il placaggio adesso è Pesaro che deve riuscire a raggiungere il numero 11 che non riesce a raggiungere la meta perché c'è un super placaggio di Porcellini adesso è Pesaro che deve riorganizzarsi subito in difesa perché comunque c'era un vantaggio in favore dell'Avezzano davvero placaggio della vita anche in questo caso per Porcellini Porcellini anche qui è stato bravissimo la loro ala a destra è già la seconda meta possiamo dire che si mangia però bravissimo Porcellini perché ha fatto un gran recupero a un metro dalla meta bastava assolutamente che si allungasse bravi Pesaro ancora una volta qua però non bisogna lasciare tutto questo spazio a largo sì è un problema l'Avezzano continua a stazionare stabilmente nella metà campo pesarese Pesaro invece deve rialzare la testa e andare a giocare dall'altra parte tante le situazioni sin qui create dall'Avezzano Pesaro sempre bravo a metterci una pezza in extremis ora altra tush molto pericolosa per Pesaro probabilmente non proverà neanche a contrastarla in aria e così è infatti per Pesaro e adesso deve però riuscire a bloccare la Moll a Bruzzese che avanza avanza Pesaro fa un po' fatica a fermarla effettivamente i giocatori a Bruzzese adesso si stacca vediamo se Pesaro riesce a tenerla su ed è ottima l'azione pesarese che ancora una volta in extremis all'ultimo secondo riesce a evitare la meta dei giallonieri adesso si riprenderà quindi con un calcio di liberazione giallorosso è sempre ottima la difesa di Pesaro però bisogna vedere se continuerà tutta questa ottima difesa perché comunque Avezzano in questo modo prende sempre più fiducia e il colpo potrebbe arrivare da parte di Avezzano però momentaneamente in questa prima mezz'ora di gioco Pesaro dimostra di avere un'ottima difesa che Avezzano fa molta difficoltà appunto fare meta però comunque Avezzano sta stabilmente nella metà campo di Pesaro quindi prima o poi questa meta potrebbe anche arrivare speriamo di no ovviamente però vediamo il proseguo della partita e adesso Pesaro deve riuscire a risollevarsi sta faticando e non poco a fermare le folate dell'Avezzano adesso faticano a mettere l'uomo a terra Pesaro adesso che deve effettivamente riuscire a fermare l'Avezzano Natalia che prova ad avanzare palla in mano adesso Pesaro che riesce a riconquistarla lo vale nelle mani dei giallorossi e alla fine l'arbitro aveva visto probabilmente un in avanti prima dell'Avezzano e quindi si riprenderà con una mischia pesarese adesso l'arbitro ferma al tempo pausa acqua per le due squadre probabilmente si è ben visto adesso qui Avezzano che ha commesso un avanti mentre attaccavano Pesaro e Bravi a recuperare non hanno sfruttato subito l'azione peccato però comunque va bene così adesso ci sarà una mischia da parte di Pesaro bisognerà uscire da questa situazione cercare di andare il più lontano possibile perché è troppo tempo che Pesaro sta nella sua metà campo e bisogna cercare di iniziare ad andare anche dall'altra parte come era stato fatto nei primi minuti Anche perché il nostro cronometro segna il trentesimo in realtà ci sono già state due pause da parte dell'arbitro in questi prima trenti minuti quindi ancora mancheranno almeno 12-13 minuti in questo primo tempo quindi partita ancora ampiamente da giocare punteggio fermo sul 6-0 in favore della Fiorini Pesaro Rugby contro l'Avestano quindi partita più che aperta in questo momento adesso altra mischia Pesaro deve riuscire a farsi valere anche questa volta per mettere poi l'ovale a disposizione di Giobert Buona la spinta della mischia pesarese Boccarossa è chiamato a tirarla fuori subito placato dal diretto avversario ma c'è il fallo e adesso è Boccarossa che prova a guadagnare qualche metro l'arbitro non è della stessa idea e quindi bisognerà riprendere dal punto e a questo punto sarà Giobert a calzare in tush sicuramente bisogna assolutamente uscire dalla metà campo pesarese purtroppo la palla però non esce calcio decisamente ma è riuscito da parte di Giobert e questa volta è Natalia a calzare lungo palla che entra dentro l'area di meta e quindi si riprende con un calcio di liberazione da dentro l'area di meta da parte della Pesaro Rugby doveva guadagnare metri ne ha persi anche in questo caso vediamo se questo calcio di Giobert sarà più fortunato di quello precedente sì questo è un errore perché la palla bisognava che andasse fuori ora è vero abbiamo calciato siamo andati un po' lontani però la palla è comunque sempre di Avezzano e questa cosa non va bene bisogna subito di nuovo recuperare la palla con una buona difesa però Avezzano sta prendendo sempre più fiducia se c'è la palla in mano comunque se c'è la palla in mano potrebbe far meta adesso è l'Avestano che prova a guadagnare metri adesso il numero 7 dell'Avestano Ponzi a sfondare Pesaro deve fare buona guardia con i suoi tre quarti Caroli che fatica a mettere a terra Corò e adesso Avezzano che prova a giocare con i suoi tre quarti Pesaro che può fare forse qualcosa di più lì sulla RAC adesso però Pesaro che si deve riorganizzare con la sua linea difensiva e adesso buono il recupero dell'Ovale ma l'arbitro ferma il gioco probabilmente aveva visto un fallo pesarese così è e quindi sarà calcio di punizione per calcio di punizione per l'Avestano vediamo che cosa desiderà di fare la posizione è decisamente favorevole anche per andare per i pali dalla panchina invitano alla Touche e così infatti farà Natalia Avezzano che continua a stare stabilmente nella metà campo pesarese ennesima Touche sui 5 metri Pesaro chiamata nuovamente a una difesa arcigna pur di non far realizzare la meta all'Avestano Touche completa per l'Avestano che perde però lo vale in aria e quindi c'è un in avanti e si riprenderà con una mischia a favore di Pesaro sin qui forse un Avestano tradito più dalla sua mischia che non dai suoi tre quarti o meglio gli sta venendo a mancare quella che era la sua certezza quindi il pack di mischia sia in mischia chiusa che in Touche non sta facendo vedere quanto di buono fatto in questo campionato di contro una Pesaro Rugby piuttosto attenta proprio in mischia adesso bisogna subito conquistare e adesso però Pesaro spinge troppo presto e quindi palla nuovamente all'Avestano che gioca lì prova ad andare dentro subito Mammone non riesce a realizzarla adesso è Arcigna la difesa pesarese e alla fine però l'arbitro assegna la meta a Ponzi un Avestano che sin qui ha giocato tante volte andando in Touche e quant'altro adesso prova ha provato a giocare velocemente dritto per dritto ed è riuscito ad andare oltre la linea di meta la difesa giallorossa purtroppo non è riuscita ad essere all'altezza e quindi Avestano ha realizzato la prima meta di giornata e ora andranno per la trasformazione prima o poi l'avevamo detto continuando ad attaccare così insistendo sempre nella metà campo di Pesaro prima o poi la meta poteva arrivare e infatti puntualmente arrivata Avestano che comunque fa un po' di errori perché in Touche era il secondo errore che sbagliavano e Pesaro in questi casi bisogna che sfrutti questi errori perché se non poi dopo Avestano ritorna subito sotto ritorno subito la carica e come in questo caso ha fatto meta ora però bisogna cercare di andare dall'altra parte si avrà la possibilità di ritornare di là e quindi sarebbe importante stare nella loro metà campo e adesso è la Vestano a portarsi in vantaggio per 7 a 6 nei confronti della Fiorini Pesaro che deve subito rialzare la testa e portarsi finalmente nella metà campo abrustese Pesaro che subite da almeno un quarto d'ora gli attacchi continui della Vestano nella propria metà campo e adesso è Pesaro che deve tornare a dettare legge e rialzare la testa portando grande aggressività e adesso palla recuperata fortunosamente dall'Avestano adesso buono il calcio di Natalia preso da Antonelli Antonelli pronto a contraattaccare macina metri faticano i giocatori dell'Avestano a metterlo a terra adesso ci sarebbe anche un fallo dell'Avestano non visto dall'arbitro Pesaro che prova a distendersi con i suoi tre quarti adesso è Villarosa ad andare oltre la linea del vantaggio buonissima l'azione del capitano adesso Boccarossa deve dare continuità al gioco di Pesaro Santino che tentenna un po' troppo di fronte alla difesa avversaria adesso è Paletta a servire De Angelis sull'out esterno ancora avanti per Pesaro buone le giocate adesso è Boccarossa che dà continuità palla per Venturini che va dentro e porca boia adesso è Pesaro a commettere un fallo e quindi palla per l'Avestano questo era un errore da non commettere e probabilmente un fallo durante il sostegno era stata una buona azione perché eravamo partiti dai 22 nostri ed si era arrivati nei loro 5 bisognava dare più continuità l'azione era giusto accelerare però secondo me la scelta di gioco a quel punto quando loro erano in difesa in 5 e si attaccava in 3 secondo me in quel momento bisognava un po' un attimo rallentare ripartire fare qualche nera con i giocatori di mischia e poi puntare alla meta in quel momento lì era giusto rallentare peccato però comunque Pesaro ha avuto una bella reazione alla meta subita una bella reazione che deve continuare si è visto che Pesaro può dire la sua in attacco però è fondamentale giocare nella metà campo avversaria vediamo qualche problema forse per il giocatore della Pesaro Rugby Caroli che va nuovamente a farsi medicare un dito qualche problema anche per un giocatore della Vessano non vediamo adesso di chi si tratta e adesso comunque si riprenderà con una tush in favore della Vessano ma è comunque Pesaro stabilmente in questo momento nella metà campo a Bruzzese e quindi Pesaro che deve continuare a mettere pressione a cercare di riconquistare subito l'ovale vediamo se Pesaro questa volta prova a contrastare in aria così è non riesce a infastidire la Vessano che imposta la sua Moll alla fine calcio dalla base per la Vessano recupera la Resciarte che serve De Angelis che però viene subito imbrigliato dai giocatori a Brustesi buono il sostegno dei pesaresi adesso è Pesaro palla in mano Santino che prova ad andare oltre la linea del vantaggio Massina qualche metro Boccarossa che deve dare continuità al gioco giallorosso Pesaro che deve andare oltre la metà campo fatica un po' giocandoli vicino alle rack vediamo se Boccarossa adesso riuscirà è una Vessano che rallenta e non poco il gioco pesarese adesso Pesaro che prova ad andare oltre palla per Gioberta per Tontini che spinge sulle gambe si fa stoppare il pallone adesso però Boccarossa indovina indovina un buon calcetto e alla fine Etus in favore di Pesaro buona la risalita sia di Boccarossa che di Tontini peccato che l'arbitro fischia la fine dei giochi di questo primo tempo che termina quindi con l'Avestano in vantaggio per 7 a 6 ai danni della Fiorini Pesaro Rugby linea allo studio di nuovo al Totti Patrignani per il secondo tempo fra Fiorini Pesaro Rugby e Avestano Avestano che conduce nel punteggio per 7 a 6 una Fiorini Pesaro Rugby però viva che dopo aver condotto per lungo tempo per 6 a 0 ha subito la meta e il ritorno degli abruzzesi adesso i giallorossi però devono rialzare la testa hanno già dimostrato nel finale del primo tempo di avere le qualità e le possibilità di mettere in difficoltà questo Avestano e così devono fare intanto l'arbitro imbriaco fischia l'avvio di questo secondo tempo buona la ricezione di Pesaro che va a contatto adesso dovrà essere Jobert ad andare a esplorare la metà campo dell'Avestano con un bel calcio così è secondo tempo fra l'altro con il vento adesso è calato comunque nel caso in cui si rialzasse dovrebbe essere in favore di Pesaro adesso nuovamente palla nelle mani di Jobert che va a cercare un'altra tush purtroppo la palla la tush sarà comunque all'interno della metà campo pesarese in favore dell'Avestano Pesaro che deve riuscire assolutamente a guadagnare metri e andare a giocare nella metà campo giallonera sì sicuramente come abbiamo visto nel primo tempo non si può stare così tanto tempo in difesa abbondanti 25 minuti dentro la propria metà campo bisogna cercare di andare di là stare il più tempo possibile di là giustamente ci saranno i momenti di difesa però ovviamente evitare quello che è successo nel primo tempo ossia tutto quel tempo in difesa ma cercare di stare in attacco il più tempo possibile adesso Pesaro che mette in difficoltà in tush l'Avestano che comunque mantiene il possesso del pallone e adesso è un'Avestano che prova a distendersi con i suoi tre quarti Pesaro decisamente macchinosa e lenta a ripartire adesso serve il sostegno capitano Villarosa palla per i tre quarti pesaresi buona la Veronica di Gioberta evitare il diretto avversario però serve un altro ritmo per mettere in difficoltà questo Avestano e magari maggiore gioco alla mano ma Pesaro deve riuscire a fare qualcosa di più adesso è Paletta che prova ad accelerare serve Tontini che va oltre la linea del vantaggio davvero buona l'azione serve continuità e adesso è Boccarossa che prova a fare una giocata furba che non gli riesce e soprattutto perde il pallone e adesso vediamo rimasto a terra un giocatore dell'Avestano l'arbitro ferma il gioco si riprenderà probabilmente con una tuscia in favore di Pesaro e non capiamo chi è a terra se retagliata il numero 8 no è il numero 5 sembra che comunque si sia fatto male adesso l'arbitro ha fermato il tempo e Gian Gregorio a terra vediamo se riuscirà a rimanere in campo oppure no una pausa in cui le squadre possono rifiutare allo stesso tempo Pesaro cercava di alzare il ritmo e questo sicuramente non fa bene a chi deve recuperare nel punteggio per fortuna niente di grave per Gian Gregorio e quindi si riprenderà con una mischia in favore di Pesaro introduzione di Boccarossa a colloquio con Giobert per decidere la giocata adesso vediamo se Pesaro riuscirà comunque a mantenere lo stesso atteggiamento in mischia c'è stato un cambio in prima linea è entrato leva per dal pozzo a sinistra Pesaro che conquista subito una gran punizione con la mischia che decisamente spinge e affossa la mischia abruzzese adesso palla nelle mani di Giobert che va a cercare una touche quanto più vicina alla bandierina adesso buona touche per Pesaro adesso lancio nelle mani di Stefanini vediamo una touche sui 10 metri più o meno vediamo se riuscirà prima a conquistarla Pesaro e poi sviluppare una buona azione da vedere si la va adesso Pesaro che prova a impostare la molle prima aveva commesso un errorazzo vediamo di non ripeterci palla nelle mani di Stefanini adesso Boccarossa che va a prendere l'ovale serve Giobert palla per Porcellini che va a contatto va dentro vediamo se riesce a mantenere l'ovale così è i giocatori dell'Avestano che chiamano qualcosa forse si sono riusciti a conquistare il pallone quindi Pesaro deve riorganizzare la linea difensiva mentre l'Avestano prova a distendersi con la sua ala però è Pesaro a riconquistare l'ovale adesso giocata complessa da parte dei giallorossi che alla fine commettono un in avanti non c'era assolutamente bisogno di questo flood giocate semplici per riuscire a mantenere il possesso dell'ovale e rimanere costantemente nella metà campo avversaria non bisogna buttare via palloni è un peccato perché ci eravamo avvicinati molto bene era stata una buona molle sembrava l'azione buona però anche in questo caso si è stati un po' maldestri Pesaro è stato un po' maldestri Avezzano sono molto bravo a recuperare subito a largo a guadagnare tanto terreno oltretutto che adesso la mischia è a favore di Avezzano quindi avranno la possibilità di giocare loro la palla però comunque l'atteggiamento c'è sicuramente bisogna concretizzare meglio queste situazioni l'atteggiamento è corretto bisogna fare cose quanto più semplici per mantenere il possesso dell'ovale in questo caso avevamo riconquistato il pallone dopo che l'Avestano aveva provato a stendersi con i suoi tre quarti forse un po' troppa precipitosità per provare a dar continuità al gioco non ha portato bene a Pesaro adesso serve comunque subito una buona spinta da parte dei giallorossi per provare a mettere in difficoltà l'Avestano la spinta è buona l'arbitro vede addirittura un fallo non serviva assolutamente a nulla questo fallo che dà la possibilità all'Avestano di guadagnare una tush nella metà campo pesarese sono queste le ingenuità da non commettere in una partita contro una squadra che comunque dà la sua tanta esperienza nonostante sia una neopromossa ma tanti giocatori che sicuramente possono dire alla loro e stanno dicendo alla loro in questa Serie A e adesso Pesaro si ritrova rispedita nella propria metà campo a dover contrastare l'ennesima tush probabilmente l'ennesima molle abruzzese sì bisogna essere un erroraccio perché loro hanno adesso di nuovo la possibilità di riavvicinarsi anche se comunque siamo nella metà campo però appunto adesso è Avestano con la palla in mano e Pesaro è costretto di nuovo a provare a recuperare la palla e risalire il campo mentre Avestano in questo momento ha sempre più fiducia e riesce a giocare sempre meglio Pesaro che deve far subito buona guardia mettere grandissima pressione non permettere ad Avestano di riconquistare i metri e risalire adesso invece qualche metro per gli abrustesi Pesaro deve fare buona guardia dietro con Venturini chiamato a calciare buona la palla che comunque rimane in campo vediamo Natalia recuperarla adesso Venturini rimette in gioco tutti i suoi compagni Pesaro deve essere brava ad arrivare sul pallone Antonelli che aspetta e deve rincorrere la palla a lungo adesso Pesaro è proprio dentro i suoi 22 Antonelli bravo a rimanere in piedi ora mette palla a disposizione dei compagni infatti sta che Pesaro deve ripartire da dentro i suoi 22 è bravo Santino ad andare oltre la linea del vantaggio adesso palla per Giobert chiamato a liberare con un calzone la sua metà campo Pesaro che deve rischierare la sua linea difensiva e adesso Pesaro che faticano un poco a mettere a terra il diretto avversario e adesso buon per Pesaro che la Vestano non vede la superiorità numerica a largo Pesaro deve assolutamente risistemare la sua linea difensiva deve recuperare sull'out di sinistra fra l'altro c'è un vantaggio per la Vestano che dà continuità al suo gioco Pesaro che fatica addirittura un placcaggio alto di Caroli gravissimo errore e adesso Pesaro che prova a mettere le mani sul pallone e addirittura l'arbitro mette la mano in tasca per probabilmente estrarre un cartellino vediamo se l'arbitro è esatto e assegna un giallo a Leonardo Venturini questo proprio non ci voleva Pesaro che rimane in 14 per 10 minuti è un bra Pesaro che sta faticando e non poco in difesa e adesso iniziano a faticare Avezzano sta attaccando molto bene non ho capito il motivo del giallo onestamente però arbitro è molto fiscale e lo si è visto nel primo tempo molto probabilmente ha punito qualcosa che aveva già chiamato in precedenza Avezzano che comunque come ho detto prima sta prendendo molta più fiducia e Pesaro sembra un po' un po' disorientato e se l'ha iniziato bene la partita adesso invece sta un po' sbarellando adesso per Pesaro sarà ancora più difficile deve risollevare la testa e deve riuscire a contrastare una squadra con un giocatore in meno adesso è buona la touche per l'Avezzano Pesaro che prova a contrastare la molla una molla decisamente avanzante e arriva anche la seconda meta di giornata dell'Avezzano giallo e meta subita peggio di così in questo momento non poteva andare per la Fiorini Pesaro rugby è così proprio questo non ci voleva è stato questo è un duro colpo adesso da digerire perché appunto se è in 14 con un'altra meta subita da potresti dare adesso con un 14 a 6 inizia ad essere pesante inizia anche ad essere difficile recuperare il risultato con questo Avezzano qua che sta adesso iniziando a giocare sempre meglio mentre Pesaro che appunto come dicevo poco fa sta un po' facendo difficoltà e adesso bisognerà trovare qualcosa di diverso magari anche dalla panchina per cercare di cambiare questa partita che sta andando veramente male Ficadenti alla trasformazione intanto il punteggio è sul 12 a 6 per l'Avezzano vediamo se riesce a centrare i pali da buona posizione riesce a centrare i pali quindi punteggio sul 14 a 6 addirittura sopra break per l'Avezzano e adesso è la Fiorini Pesaro Rugby che è chiamata a dover fare qualcosa di più per mettere in difficoltà la squadra abruzzese calzo di Giobert ed è bravo Tontini a recuperare l'ovale deve mettere l'ovale a disposizione dei compagni così è adesso è Santino ad andare a contatto prova a macinare metri messo a terra bravo serve continuità di gioco per Pesaro adesso è Giobert ad andare oltre la linea del vantaggio a mettere a terra diversi avversari Pesaro Pesaro serve continuità adesso capitano Villarosa per Santino che prova il dritto per dritto a sfidare il diretto avversario guadagna qualche metro adesso Pesaro che deve provare a mettere in difficoltà questo Avestano fare cose semplici adesso è capitano Villarosa ad andare dentro serve il sostegno dei compagni Pesaro che fatica un po' a tenere l'ovale adesso sembra Tontini ad andare direttamente a contatto vicino alla RAC e alla fine ennesimo calcio di punizione per l'Avestano e poi Gabriele Venturini ha anche la bellissima idea di parlare e di commentare la scelta dell'arbitro e quindi di prendere altri dieci metri di punizione Pesaro deve stare nella metà campo avversaria e invece commette non solo l'ingenuità del fallo che ci può stare ma addirittura anche si fa rispedire dall'arbitro per troppe parole tutto da rifare ancora nella sua metà campo Pesaro adesso è capitano Villarosa a parlare con l'arbitro chiede chiarimenti servono a pochi chiarimenti quando non riesce a stare comunque per più di due tre azioni nella metà campo avversaria questo Pesaro oggi sta affaticando e non poco fra l'altro adesso con un uomo in meno il compito diventa ancora ben più arduo ennesima Tush in favore dell'Avestano Tush storta l'arbitro la vede d'altronde non ne ha sbagliata una di chiamata sulle Tush l'arbitro attentissimo adesso si riprende con una mischia in favore di Pesaro vediamo se Pesaro lascerà una mischia a sette o metterà un componente di tre quarti in mischia sembra volerla lasciare a sette intanto se ne è andato il primo quarto d'ora di questo secondo tempo ancora lunga la partita ma Pesaro deve iniziare a dettar legge sul suo campo diversamente sarà sempre più dura adesso è buona la spinta pesarese ma l'arbitro vede un ennesimo fallo di Pesaro e quindi la Vestana andrà ancora in Tush vediamo che cosa desiderà di giocare la Vestana da questa Tush sono errori da evitare Pesaro sta facendo troppi errori in questa parte di secondo tempo Avezzano con gli errori di peso riesce a risalire il campo in questo momento qui Avezzano sembra averne di più quella supremazia che dicevo all'inizio che magari non ci potesse essere in questo momento invece si vede e Pesaro sta faticando molto oltretutto anche con l'uomo in meno quindi non so in questo momento cosa potrebbe cambiare perché Pesaro è veramente sulle corde intanto c'è un ottimo in avanti per Pesaro sulla Tush da parte della Vestana e quindi si riprende con una mischia tutta giallorossa adesso abbiamo visto che è entrato Giaouari per Caroli quindi cambio nella seconda linea pesarese anche se Giaouari forse pensava ancora di essere fra i tre quarti e quindi si stava schierando con la linea arretrata pesarese vediamo adesso la mischia di Pesaro se riuscirà a guadagnare l'ovale l'ovale esce e adesso buono il calcio di Giobert Pesaro che deve risalire con la sua linea di tre quarti deve sistemarsi e buono il placaggio di Porcellini che addirittura prova a conquistare l'ovale non riesce adesso passaggio che sinceramente sembrava in avanti di Natalia Pesaro che fatica a mettere a terra il diretto avversario palla che rimane nelle mani della Vestano adesso è Natalia che prova a esplorare il campo fa poca strada comunque Pesaro che fatica comunque a mettere a terra i giocatori a Brustesi e alla fine l'arbitro torna su un vantaggio precedente questo è una disattenzione nella difesa non può esserci quel buco e il loro talo nel fare tutto quel terreno perché ha davvero tanto terreno e soprattutto quando la palla esplode bisogna cercare di avventarsi su quella palla che è vagante non è più di nessuno appunto anche Pesaro al primo tempo aveva fatto una buona difesa adesso invece inizia a far fatica anche in difesa e questi non sono buoni segnali perché Pesaro sta appunto perdendo i suoi punti di riferimento dopo il calcio dopo il calcio rientrerà Venturini Pesaro che tornerà ad essere 15 contro 15 fatto sta che questo giallo probabilmente è costato 10 punti alla squadra pesarese se Ficca Denti riuscirà anche a trasformare questa punizione così frontale difficile che la sbagli Ficca Denti al calcio e infatti trasforma e Avestano che si porta sul 17 a 6 contro la Fiorini Pesaro Regui e Pesaro che deve assolutamente rialzare la testa vediamo se si riuscirà adesso il compito si fa ancora più arduo e serve qualcosa in più da parte di tutti le energie sicuramente vanno scemando mancano 20 minuti al termine della partita Pesaro deve riuscire a far qualcosa in più e mettere più di qualche granello e sassolino negli ingranaggi di questo Avestano che è comunque una squadra che sta facendo tutto piuttosto bene e adesso è l'Avestano che riesce a mantenere comunque l'Ovale e c'è anche un vantaggio se non sbaglio vantaggio acquisito per l'Avestano e allora è Simone De Angelis a contraattaccare andare dritto per dritto palla per Villa Rosa adesso è Giobert ma c'è qualche problema non so che cosa sia successo a terra credo che sia Natalia il numero 10 dell'Avestano ex Pesaro fra l'altro per due stagioni fra l'altro non ho visto neanche qua che cosa abbia fischiato l'arbitro un velo fase di gioco piuttosto concitata non è chiaro cosa sia successo adesso c'è anche Stefanini della Pesaro Rugby a terra onestamente da qua non abbiamo visto che cosa sia successo sembra che anche la terna arbitrale non abbia visto nulla di particolare nonostante qualche lamentela da parte dei giocatori dell'Avestano comunque Natalia si è rialzato per fortuna nulla di grave per lui si riprenderà con una mischia che ammetto che non so se sia a favore di Pesaro dell'Avestano forse dei giallonieri visto che in questo momento lo vale sotto il braccio del mediano di mischia abruzzese ficca denti lunga pausa si riprende con una mischia in favore dell'Avestano adesso Pesaro ha la mischia al completo vediamo se riuscirà a mettere in difficoltà la mischia introduzione abruzzese buona la spinta di Pesaro però è buona ritagliata a tirar fuori l'ovale adesso è Pesaro che fatica ma c'è un fallo da parte dell'attacco dell'Avestano che va contro Boccarossa l'arbitro era lì se ne avvede subito e adesso dovrà essere bravo Gioberta a indovinare una tush per poi cercare il bottino grosso della meta sfruttare questo errore per cercare di andare il più vicino possibile all'orario di meta anche perché mancano 20 minuti e bisogna fare due mete perché fare una meta il calcio non ti consentirebbe di pareggiare il risultato ma quindi ti servono due mete e devi farle in 20 minuti abbiamo visto la difficoltà di Pesaro perché non ci sono riusciti in tutto questo tempo adesso bisognerà fare due mete in 20 minuti bisogna invertire qualcosa nelle teste dei giocatori trovare quelle energie nascoste per cercare di arrivare alla vittoria che sarebbe un risultato molto importante per Pesaro Tush sui 22 per i giallorossi vediamo che cosa desiderà di fare Stefanini buona la Tush portata a terra da Venturini e c'è però un altro fallo da parte della Vestano forse l'arbitro poteva far giocare un po' di più il vantaggio così non è e soprattutto Giobert che decide di andare per i pali forse vuol portare a casa intanto tre punti per muovere il punteggio e se non altro avvicinarsi nel punteggio e comunque portare qualche punto a casa in classifica a fine partita vediamo se questa tecnica premiera a Pesaro e soprattutto tutto passa anche da questo calcio se riuscirà a realizzarlo o meno fatto sta che non si porterebbe comunque sotto break con questo calcio un po' di fiducia per i pesaresi Giobert trasforma il terzo piazzato di giornata e quindi Pesaro che torna si riavvicina all'Avestano che continua a guidare nel punteggio per 17 a 9 Fiorini Pesaro Rugby che comunque fa vedere di essere viva Fiorini Pesaro Rugby che adesso deve riuscire a tornare quanto prima nella metà campo dell'Avestano adesso Tontini chiamato a prendere il pallone riesce a trovare una presa sicura adesso serve la piattaforma vediamo se Boca Rossa serve Giobert buono il calcio Pesaro può risalire Avestano che ci mette un po' a ripartire adesso che gioca con i suoi tre quarti a largo Pesaro che prova ad andare a caccia del pallone ma non ci riesce adesso è Natalia a conquistare adesso c'era un in avanti grande come una casa che l'arbitro non ravvede fatto sta che la palla esce dal fondo e quindi l'arbitro vediamo che cosa deciderà l'arbitro sta facendo non poca difficoltà e sta dando una gran mano alla confusione che in campo già generano i giocatori vediamo che cosa si riprenderà qua adesso l'arbitro è stato richiamato dal guardaline Caprini vediamo un attimo che cosa decideranno sembra che sarà mischia in favore di Pesaro la gestualità dell'arbitro denota anche un po' la sua confusione a mio avviso visto che aveva segnalato una mischia in favore dell'Avestano buona la mischia pesarese adesso Boccarossa la deve tirare fuori per Giobert Pesaro che prova a giocare in velocità buono De Angelis davvero buono il suo ingresso e adesso è Pesaro che deve dare continuità al suo gioco e adesso ennesimo fallo in questo caso per un placcaggio in ritardo ai danni di Boccarossa dico bene del mediano di mischia pesarese l'arbitro non ravvede comunque gli estremi per un cartellino e adesso buono il calzo di Giobert in touche si riprenderà con un lancio tutto pesarese Pesaro che deve spingere sull'acceleratore quanto meno per portarsi sotto break ricordiamo che nel rugby una partita seppur persa con una differenza punti inferiore o uguale a 7 consente anche alla squadra sconfitta di prendere un punto in classifica adesso vediamo Pesaro cosa decide di fare in touche touche a 5 sembra per Pesaro lancio di Stefanini sembra storta e così è purtroppo Pesaro ha sbagliato troppe touche non ci si possono permettere tutti questi errori soprattutto se devi lanciarti in una rimonta che a questo punto sembra quasi disperata e adesso l'Avestano decide di andare in touche mentre inizialmente aveva deciso di sfidare Pesaro in mischia adesso giustamente si affida alla sua touche visto che si è dimostrata molto più affidabile adesso portano direttamente a terra il pallone Pesaro che deve mantenere la pressione essendo nella metà campo abruzzese palla di Natalia per il suo l'arbitro vede però il passaggio avanti e quindi si riprenderà con una mischia pesarese adesso però serve una buona mischia pesarese una buona spinta e soprattutto bisogna riuscire a portare ancora fieno in cascina e quindi mazzinare punti per andare sotto break e avvicinare la Vestano nel punteggio l'arbitro richiama le due mischie o meglio le due prime linee partita di grande sacrificio in prima linea per Franco e Stefanini che sono in campo dal primo minuto e adesso pesaro fatica e non poco in mischia però esce Antonelli con il pallone in mano ottima la sua prova adesso pesaro deve far uscire l'ovale adesso è Santino ad andare dentro pesaro che prova a giocare con i suoi tre quarti è paletta a mazzinare purtroppo perde l'ovale in avanti e pesaro che deve ripartire pesaro deve riuscire a riconquistare il pallone adesso è vantaggio probabilmente acquisito visto il calcio di Natalia ed è Venturini a andare dritto per dritto a contatto pesaro che deve portare sostegno e ripartire da metà campo praticamente adesso è Antonelli a mazzinare ancora metri davvero ottima la sua prova di nuovo per paletta sull'out di destra buono dentro per buonissima l'azione con De Angelis che serve Boccarossa purtroppo però l'Avestano riconquista l'ovale adesso serve grande pressione di pesaro per riuscire comunque a mazzinare nuovamente gioco a riconquistare quanto prima l'ovale palla che rimane in campo Venturini che non se ne avede non c'entra e non riesce a tenere vivo l'ovale però palla subito per pesaro che gioca veloce con l'arrest sull'out di sinistra che va dentro per Jobert pesaro che mazzina metri purtroppo perde l'ovale forse lo perde indietro l'arbitro non fischia nulla palla per Tontini sull'out di sinistra pesaro che deve un attimo riorganizzare il suo attacco palla in mano a Jobert Jobert che va direttamente a contatto l'arbitro fischia ma non si sa che cosa perché la gestualità è completamente inesistente difficile capirlo qua dalla tribuna non si capisce chi stia richiamando se giocatori del pesaro giocatori dell'avezzano la panchina è davvero complesso seguire questa partita e alla fine mette una mano in tasca va a estrarre un cartellino e manderà fuori sicuramente un giocatore dell'avezzano e quindi si riprenderà probabilmente con un calcio di punizione in favore di pesaro giallo al numero 11 mi pare di capire quindi l'ala capone che già nel primo tempo era stata ripresa per qualche parola di troppo sull'operato dell'arbitro quindi calcio di punizione in favore di pesaro vediamo che cosa decideranno di fare i giallorossi decidono di andare in tusce da posizione più o meno analoga prima Gioberto aveva deciso di calciare per i pali questa volta si va per il bottino grosso speriamo che il lancio sia più fortunato degli ultimi si si giusto così adesso andare a provare a cercare la meta che ti consentirebbe di arrivare a due punti da da d'avezzano ovviamente con la trasformazione troppi errori però da parte di pesaro in tanti contrattacchi hanno perso più volte la palla e loro avezzano ha sempre calciato via la palla rispedendoci indietro quindi bisogna cercare di evitare di fare meno errori possibili dicendo che siamo al trentaduesimo del secondo tempo devi fare meno errori possibili in questi ultimi otto minuti però come abbiamo visto pesaro sta facendo davvero tante difficoltà e è tutta la partita che comunque non riesce a evitare queste cose queste lacune qualche energia fresca per pesaro in campo davvero bella l'azione di prima con l'incrocio fra paletta e de angelis per poi dar la palla a bocca rossa peccato che poi si era perso per l'ennesima volta l'ovale una partita davvero molto spezzettata con lunghissime pause speriamo che l'arbitro imbriaco di bologna recuperi qualche minuto oltre i 40 effettivi adesso vediamo il lancio di pesaro agostini al lancio subentrato a stefanini lancio sul primo blocco e alla fine l'arbitro però fischia il velo queste sono delle ingenuità che pesano non deve commettere se l'avestano decide di non contrastare la mole chi riceve palla deve girarsi e attaccare subito e adesso per l'ennesima volta Natalia calza indietro e si riprenderà con una touche per l'avestano questo è un errore da parte degli uomini di mischia sai che quando loro non vanno a contrastare devi evitare quell'ingenuità lì che loro hanno commesso adesso bisogna di nuovo risalire il campo e oltretutto adesso stavolta la palla se l'avestano che come vediamo non ha tutta questa fretta di battere mentre il tempo scorre e inizia a essere il tempo inizia a essere sempre di meno e le possibilità inizia ad essere sempre poche ed è un peccato è un peccato perché Pesaro non ha mai potuto diciamo capitalizzare tutto quel guadagno territoriale fatto ogni volta che si è affacciata nella metà campo avversaria poi ha perso terreno adesso è l'avestano che mantiene il possesso dell'ovale buono il placcaggio e Pesaro che va subito a contrastare l'ovale vediamo se riesce a conquistarlo purtroppo è l'avestano a mantenere il pallone Pesaro che deve fare solo buona guardia lì vicino alla RAC adesso c'era un altro in avanti grosso come una casa l'arbitro non se ne ravvede adesso è Natalia che calza il pallone avanti vediamo se Venturini riesce si riesce a mantenerlo adesso c'è placcaggio su di lui serve sostegno c'è un po' di difficoltà a pulire il pallone in RAC adesso è Villarosa che prova a portare avanti l'ovale Pesaro fa fatica c'è poco da fare e adesso palla sull'out di sinistra e adesso palla per la Resciarte che può distendersi deve riuscire a mantenersi in campo De Angelis buono per il sostegno buonissimo davvero buono Pesaro che deve andare da dentro con Acerra vediamo se riesce a dare un po' di continuità al suo gioco palla per Antonelli purtroppo c'è un in avanti ma per fortuna di Pesaro c'era anche il fuorigioco dell'Avestano adesso buona la posizione vediamo se Gioberto andrà per i pali così è così gli indicano d'altronde manca poco tempo e almeno si riporterebbe sotto break è fondamentale riuscire a centrare questo piazzato da posizione piuttosto favorevole seppur Gioberto ricordiamo è destro e lì sarebbe una posizione perfetta per un mancino però piuttosto centrale il calcio purtroppo non c'entra i pali adesso è Natalia un buon calcio serve serve battere velocemente questa tush e soprattutto serve mantenere il possesso e riuscire a giocare è una tush per Pesaro giocano sul primo blocco vediamo Pesaro che prova di stendersi sull'out di sinistra vediamo palla Venturini va a contatto deve rimettere la palla per i suoi a Serra a contatto anche lui deve mettere palla a disposizione dei giallorossi Pesaro che gioca con non tanta profondità adesso eleva a guadagnare metri ottima la sua giocata e adesso sembrava paletta riuscire a sfondare per linee centrali così non è Pesaro che cerca di mantenere comunque il possesso delle vale e Pesaro che va avanti con Tontini fatica però e palla per Pesaro Venturini va a contatto vediamo se riesce a mantenere il possesso forse un po' alto il placcaggio e adesso è paletta ad andare per l'interno e adesso Venturini che conquista l'ovale prova ad andare dritto per dritto fatica adesso la resciarte fatica a trovare i compagni vediamo a un passo dalla linea di meta Pesaro deve riuscire ad andare oltre l'arbitro segnala solo un e adesso c'è la meta di paletta davvero bravo l'arbitro a dare il vantaggio subito alla meta di paletta e Pesaro che si riporta sotto di due punti Pesaro che vuol provare a dire la sua in questo finale di partita Pesaro anzi scusate mi correggo sotto di un punto perché appunto trasformando si è portata sotto per 17-16 Avestano che continua a guidare di un punto in questa partita vediamo che cosa succederà l'Avestano rallenta ovviamente e non poco la ripresa del gioco fatto sta che l'arbitro ha fermato così tante volte il gioco che probabilmente che probabilmente si dovrà recuperare un po' di tempo il nostro cronometro segna già il 43 però ecco appunto sicuramente si dovrebbe andare oltre viste le tante interruzioni di gioco adesso palla per Giubert calza alto tutti sotto la palla Pesaro che sale e adesso soprattutto un brutto scontro di gioco fra due giocatori dell'Avestano è tenuto ma non vorrei che si fosse fatto anche male il giocatore dell'Avestano in questo brutto scontro di gioco praticamente due compagni sono andati per ricevere la palla chi l'ha ricevuta è stato poi steso direttamente dal compagno fosse stato un pesarese sarebbe stato un fallo da giallo se non da rosso uno scontro di gioco fra compagni è tutto da vedere che cosa succederà intanto sono a colloquio l'arbitro imbriaco di Bologna con il guardaline Gargamelli serve l'assalto finale giallo rosso tutto starà a vedere se sarà Pesaro a ripartire palle in mano o meno da questo probabilmente dipenderà molto per il proseguo della partita visto che manca davvero poco probabilmente al fischio finale dell'arbitro l'arbitro è colloquio con i capitani vediamo che cosa segnalerà d'altronde l'arbitro a me è parso che abbia fischiato proprio perché c'era un giocatore a terra per paura che si fosse fatto male dico la verità quindi non vorrei o meglio non vorrei potrebbe essere anche palla in mano all'Avestano non so davvero come potrebbe riprendere la partita in questo caso neanche io onestamente saprei rispondere alla tua domanda vedremo cosa desiderà l'arbitro infatti mi sa che stanno discutendo sul come ripartire non lo saprei comunque adesso mancano due minuti alla fine della partita bisogna risalire il campo bisogna sperare in qualcosa magari in un fallo da parte loro che ti consenta di calciare in mezzo ai pali anche se comunque adesso la palla di Avezzano perché ho visto Bocca Rossa dare la palla all'ex Natalia quindi oltretutto bisogna recuperare la palla e risalire il campo lavoro tosto contando il poco tempo che si ha a disposizione si riparte con una mischia in favore della Vessano Pesaro deve tornare a fare la voce grossa in mischia per provare a rubare il pallone e lanciarsi nell'ultimo disperato attacco sicuramente è un bel finale di partita visto quanto è combattuto speriamo che Pesaro riesca davvero a fare la voce grossa in questa mischia così non sembra essere Avezzano che tiene l'ovale subito messo a terra da Bocca Rossa il diretto avversario Pesaro che prova a fare la voce grossa il rack non riesce però a rubare il pallone vediamo che Pesaro mantiene la palla lì vicino le rack è quello che deve fare soprattutto se manca poco tempo cerca di congelare la partita lì vicino le rack gli servirebbe forse una maggiore energia al placcaggio e servirebbe qualcuno che andasse a provare a rubare il pallone fare una contro rack serve una giocata di quel tipo perché se no Pesaro vedrà finire la partita tristemente in questa modalità e questa la contro rack che serve Pesaro deve provare a spingere senza commettere fallo per conquistare l'ovale non tirano fuori la palla faticano sembra addirittura palla persa in avanti l'arbitro non è del nostro avviso bravo l'Avestano a congelare l'ovale in questo modo Pesaro che fatica lì o fatica o meglio contiene lentamente le rack Avessano che è tutta dentro che provano e adesso addirittura palla contrastata e l'arbitro che fischia la fine della partita con Pisa Pia che con Natalia che manda la palla fuori e l'Avestano che vince di uno e la Fiorini costretta quindi alla sconfitta linea allo studio